Ben tornati i picciotti in questo nuovo episodio di Arca Shush Shended nel server Molestoland con il vostro fangamers Oggi andremo a caccia di uccelli, se vi siete versi, vi siete i precedenti li trovate sopra di me Allora ragazzi, prima di andare a caccia di uccelli oggi che suona abbastanza male Adesso ci facciamo un po' di robe Dobbiamo farci la picca e un po' di vestiti resistenti per il caldo e il freddo che oggi si va a caccia di uccelli Perché Ale è pieno di roba perché si fa tutta la nottata alla ricerca dei drop Dicevi, signor Ale? Non sono pieno di niente Sì, sì, tutti così dicono Allora Fatti quello che ti serve, che è l'assetta, me la riprendo Poi gli devo mettere la fibra Puoi farmi tutto tranne l'altro vestito, uno No, fatti, ah no, forse c'avevo io un pezzo di questo E quale? Vabbè sì, meglio uno in più che uno in più No, mi ricordo, fatelo, vai Allora io invece Aspetta che è giusto pure la mia accetta, ormai che ci sono Allora ti metto No vabbè, me li sblocco nuove, tanto mi serve pure per Siamo tutti i vestiti del deserto così E in più pure la picca Vabbè In giaccio abbandono Vai, fai strada, sennò dovrò ucciderti Aspetta, fammi dare un bacio a mia moglie Perché? Perché stai partendo in guerra No, è lei che passa in guerra Con i bambini Con i bambini in guerra? No, no, è una Nel senso che è una guerra con loro Quando vai fuori a portarle a giocare Ma devi andare avanti tu, Ali Non so dove è Allora, dove finisce qua l'acqua? Devi passare dall'altra parte Ah, quella lì è la grotta Ce l'abbiamo pure vicino, pure sto culo Sì Ti porta all'asi verde in basso a sinistra, giusto? Ti hanno un po' di fronte, occhio Occhio, sono due, sono due, sono due Aspetta che... Mi sono bugato Che cosa ci sono? Ah, porcaccia Vabbè, riusciamo a passare Ti stanno inseguendo, ti stanno inseguendo Eh, disturbali Non sono rimasto senza Che livello sono? Guarda che livello sono Perché non li vedo più? Mi stanno ancora inseguendo tutte e due Beh, sti cavoli, fra, sono lenti No, aspetta che... C'ho un smilodonte Ma... morto Io sto entrando qua Perché è tutto così roscio? Aspetta, fammi correre, fammi correre Mi stanno inseguendo a me Entra, entra Ok, mi stanno inseguendo Guarda, hai visto per esempio adesso Nel livello 15 L'ho ucciso proprio con tre colpi Ok, c'è un parasauro Un momento che ci sono, animali tranquilli? Sì, io ieri ho trovato solo Erbi fuori tranquilli C'è un parasauro a livello 110 Allora, l'obiettivo sarebbe Prendere qualche tappe, Yara C'è un cucciolo di lupo E prendi, lo fatti tu E qua dove devo andare A destra o a sinistra? C'è una biforcazione avanti, Ale Destra Quando è da solo E ti fa fare l'imprinting Vuol dire che non c'è quella madre No, magari la madre ha combattuto Contro qualcuno E lui è scappato Sì, sì O è morto Aspetta, aspetta due secondi Preso destra No, ma a destra non c'è l'uscita Ah, ma sì Morella topo Sembra tutto abbastanza tranquillo Fino ad ora Sì, no Fino all'uscita Fino all'uscita Qua secondo me Dovremmo farci un sacco a pelo Sì Non sarebbe male Un sacco a pelo e una tomba Qua dentro Ho un letto e una tomba Poi di nuovo a destra o a sinistra? Nando Con l'uccello più in alto Fai una tomba Sì, ma ti ho chiesto alla seconda A destra o a sinistra? Non sono arrivato ancora All'aspetta che mi devo ricordare Un raptor Livello 70 Ok, a destra Sì, ok A destra Perché c'è l'uscita Un raptor livello 70 Mi ha pushato Arrivo, sto arrivando Sto arrivando Sì, sì A destra c'è l'uscita E vedo una torretta Allora, qua Ok, da qua Diventa più difficile Hai visto che con la lancia Tre colpi Sì, sì Mi sono fatti i raptor easy Sarà qualcosa di punti Infatti Sì, sì Quello è per i punti Fammi riprendere fiato Il problema qua È che non ne troviamo Non troviamo acqua Quindi Quando ne trovi l'occasione Di bere da un buco Del cuore di un insetto Bevi Tanto ma adesso Ci raggiunge volando Casomai Ehi, mi bevo la pozione Ale Sì Ma ecco ti qua Ora sei a casa Comincia Buon cazzo Smillo Sì, sì Passa tutto da destra Beh, sì Cazzo Passa da destra Mi sta già attaccando Ma non a me No, a ninja Stava davanti Adesso a me Sono due Sono due Sono due Occhio Ninja, ninja Non indietro È già troppo Arrivo 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 Si stiamo one shot Arrivo Eh, va bene Sono one shot Tutte e due Com'è È arrivata una viverna A salvarci Ale è morto Sì Dimmi quando è la roba Era one shot Era one shot No, non prendertelo No, non prendertelo No, non devi aprire le cose ninja Che gli bugga Non può prendere le cose a casa Non aprite mai il loot Di un compagno Chi l'ha preso? No, no L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Ma no Se l'ho preso Se l'ho preso Ma si bugga Ok, abbiamo altro Smilodonte Qua davanti Poi Alex Dimmi quando sei Livello 100 Raga No, no Rotiamo la destra Sì, aspetta che C'è di nuovo tutto rotto Ma io non lo so perché Merda Le lefante Se i vestiti non servono a niente Oh Aiuto Ma me lo prendo più mai Ma che botto Tu figli arroso Pure un livello 100 Mi prendo altri vestiti A casa No, ma questo è bellissimo Sei calma Ragazzi Un metalupo verde Con la mutazione Prendilo L'ho preso Gli dico di seguirmi O lo lascio No, qua muore sicuro Bello Guarda qua È super mutato Cazzone Io qua l'ho preso Proprio dove siamo noi adesso L'ho bagato qua dentro L'ho 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 tormentato E l'ho preso Ma stanno pure in spino Ok Vedo degli argento Livello 20 Stanno lottando contro Gli argento contro I carnotauri Ma dove vuoi? Ah, dietro di noi Dietro di te Ah, ok Allora Cosa dovete fare? Sparate a uno Vi fate inseguire Dovrebbe venire Aspetta, aspetta Prima fammeli vedere Qualcuno che sta Non sta lottando Perché se no Se lo prendiamo un washout Già muore È quello alto Vedi quello in alto Che sta No, quello lì che sta Stappendo quello al voltoio Quasi quasi ci proverai Quello lì più vicino a noi Vediamo se riesco a prenderlo Eh sì Questi qua Questi due qua Vedi Quello lì Con i colori bellissimi Vabbè Mi importa i colori Mi importa i prenderli Certo che mi importa i colori Colori pensiamo No Smilodonte Dove? Perché mi arrivano dei sassi? C'è un golem C'è un golem Vabbè veloci Dove è il golem? Porco Milodonte Il livello 70 Fatto Ma stiamo scherzando Questo qua Fra Ecco perché Marioni Sassi sulla testa Infatti ho visto Arrivare un sassi Dove è il pezzo Mi sta pushando Mi sta pushando La Argentavis Raga Paratevi Ma mi spuso Un altro La Argentavis Sì sì Sto lanciando le frecce a tutti Io ho puntato Quello che ce l'ha con Ninja E questo qua Questo è addormentato Ninja secondo me Non lo colpire Devi colpire Sta scappando Quindi secondo me Già è quasi addormentato Vieni qua Testa di cazzo Si è addormentato L'ho preso L'ho preso Uno è addormentato Aspetta Ninja È addormentato O è morto? No no è addormentato Dovrebbe essere Oh me hai pusha un altro E addormentiamoli tutti Eh io sono in fin di vita Un altro addormentato Guarda il gioco Ci sto morendo Guarda me c'è uno addormentato Perché rimango sempre da solo Dove sei? Qua qua ce la con Ninja adesso Eh ma è un avvoltoio di merda Perché mi hai lanciato una bola La bola La bola All'avvoltoio Da bola Fra ti ammazza Da bola ragazzi E la avvoltoio la prossima volta Il brutto pezzo di merda All'argentavis Se ci vuole qualche altro colpo di sedativo Ce la facciamo All'altro gliele hai messo Un po' di carne tu Ninja Ninja Ci sono Eh gliele hai messo un po' di carne A quella terra Controlla Sì 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 Ok Occhio che lì abbiamo un car No Allora di fronte a noi Buono Tre argentavis Che stesso è Vabbè controllo io Io ne vedo due Quello è un maschio Ma io ne vedo solo Ale L'argentavis Che è a casa Che stesso è Ok una femmina Ce l'abbiamo Buono 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 Allora Ninja Ciao Ciao Comunque livello 29 non è male Ok 150 di danno Salute Minchia perché prendono 2004 in cibo Prendono tutti i livelli in cibo raga Che è rompimento di scatole Vale Alex non risponde Vai vai Teletrasporta vai Sì Ragazzi ricordatevi Che l'argentina è mia Ok Ma quindi sono due o tre Due ne abbiamo presi Due maschi e una femmina abbiamo Se riusciamo a prendere un'altra femmina Non sarebbe male Come due maschi e una femmina Ne abbiamo due Due maschi e una femmina Due maschi e una femmina Tu a casa che cos'hai? Non lo so che cos'hai Non ho neanche guardato Ah qua c'è un maschio e una femmina A casa è un maschio Ok Mole 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 Uccidili 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 Che livello sono? Secondo me prendete Hanno due cucciole comunque Oh via via Stanno scappando Stanno scappando Via 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 Col cazzo che stanno scappando Col cazzo sta scappando Stanno scappando Vai di della carne Non pensate solo in seguire Qua sono a livello 20 Vabbè Vabbè difendono un po' Ma qua è tutto livello basso Fra non siamo ancora al punto Di andare più avanti Dobbiamo andare Dobbiamo andare Stiamo morendo dal caldo Sì Eh dobbiamo metterci in fila raga Così non perdiamo animali Io c'ho un carnotauro dietro No sto rimorendo di sete Ma dobbiamo andare Avviciniamoci Se arriviamo fino a quel buco Poi Non è un problema Eh ma ho favore Che i carnotauro Non ce la fanno a starci dietro Adesso sta accelerando Ok No quello che segue te Sì Dov'è quello che segue me C'è un altro carnotauro Dove ne abbiamo Un maschio e una femmina Eh ho preso un altro Un cucciolo Eh ti è buggato qua Vieni coglione Guarda che ci devo morire di sete Per stupirla Ok Eh da che lato è la strada però Io non la so Ma non è che lato Ma ora dov'è il buco Eh che cazzo Non so scusa Raga date qualche info Eh non lo so Così moriamo e basta Eh ma No se non sto lì Non posso Da quella parte dove sei rimasto Verso la Verso sinistra dovevi andare Non è qua sotto Girati a sinistra Ma cos'è Che mi sta colpendo Dio favore Ma non è che lato è sta bottiglia E' merda Fammi Fammi arrivare là mole Ma chi è mi sta seguendo solo un argentano Ok ho trovato il buco Ho trovato il buco Ne fai venire la mole Sì Qui vanno a me Manca solo quello di Nando Vabbè sti cazzi uno Eh maschi e femmine Che abbiamo Sì sti cazzi uno E' peggio di prima No peggio No peggio Semplicemente Perché qua c'è tante rocce Tante cose C'è Ci sono molto più rocce Tu sei merda E' qua dove ti pingo adesso Ok Ok io ho due ienodonte L'altro Parà C'è Cerio Come cazzo si chiama E due argentavis Sto cercando di tornare a casa Un argentavis Un argentavis C'è la ninja Il suo Io c'ho solo un carnotauro Che dovrebbe venire molesto a prenderlo Se no io non posso Vai 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 Lo prendo adesso No no Ah no è un drago spinoso livello 15 Forse me lo faccio Vedi che mi sa che non puoi dargli da mangiare A posto l'ho ucciso Ne aveva addormentato uno Ma non so come si prende Perché A posto l'ho ucciso Capito Ma tu hai capito Io a posto l'ho ucciso Invece stato morto Sì ma Dovevamo comunque capire Come si prendono Dai ma non è che Un animale così essenziale Oh intanto abbiamo fatto pure un altro Paracopola minchia cerio Quindi tra virgolette Se abbiamo questi Quasi così Non abbiamo più bisogno di parasau Io sono morto C'è un branco qua Dai Mo che sono arrivato Bravi A tutti Cagare Ale all'uscita del ponte Se passi dall'acqua Vedi che all'uscita Aspetta No io sono morto Torno Dico se torni Dovresti trovare i due Ienodonte Che seguivano me prima Non torno più Perché? Ninja Attento Quando esci Che c'è un branco Di chiacchiano Ma tu non avevi niente Che ti seguiva Scusi No Per questo non torno più Ok Quindi Carnotauro Ne abbiamo salvato solo uno? Sì Uno l'ha ucciso Un uccello del terrore Uno non lo so dove cazzo Quello che seguiva Si è perso Non lo? Solo bianco? Va bene Trattiamolo bene Sto Carnotauro Che gioca Le braccine corte Mi ha già una vita difficile Comunque signori È arrivato il momento di Visto abbiamo fatto La sella Nostra agentavis Di farci Una bella passeggiata Così lo livelliamo Un pochino E andiamo a cercare Un po' di drop Vado a docerri Io vi faccio un giro Per la mappa No molesto Molesto Dai Non fare lo stronzo Ah le cose di terracotta Buone Le cose di terracotta Perché c'era Una sella Per anch'ilosauro Che ne abbiamo 50 Ci sono pure Le argentavis La però Attento che Se sei da nord Ci sono le zebbre Quelle sono forti Quelle sono forti Due bretti Terracotta Le ho messo Però mettili Tutti uguali Ci sono le zebbre Raga Hai messo storto No sono livello 20 Questi argentavis Non sono tanto forti Vabbè ce l'abbiamo Negli argentavis Però dico Questi qua sono livello 20 Vabbè aspetta Faccio Mettere un altro muro Ho trovato un drop Così mi dà un po' di livelli Pure all'animale No un drop Uno di due cose Per l'XP Una nota esplorativa Poi qua si chiamano tabelle egizie Come si chiama Sì Perché sta funzionando così male il gioco Sto costruendo per mettere una roba Che succede? Sta bloccato Molesto starà volando col go Sto lagando No 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 Una volta non è colpa mia Diciamo Esatto Sto lagando Pure quando con un sprivolo Aprevo per mettere il muro E 91 di sale E una sella per limantria Sì ne ho tipo due Pure per quello Ma che cazzo Sono quelle piccole Che cazzo sono 70 di chitina però raga Hai visto? Quei si trovano Sì ma ne fanno più paglia Qualcosa che fa di più Mi tendevo Che fai il legno C'è sta Un'altra sella per Araneo Per i ragni questo Oh Ho trovato il camino Lo facciamo a casa E' un gabinetto Così la smettete di cagarmi in casa Io ho due gabinetti Aspettiamo adesso Come scatenare il suo Ma questo è un golem Aprevo sto Comunque Non so se ti è capitato Ci sono dei drop Particolarmente Difficili da prendere Brava sono un drop E ho già ucciso Tre rapper No Vabbè Quello è niente Io ho dei drop Non vale la differenza Che è più grosso Sto figlio di puttana Ma ha rubato 40 di carne Ah no aspetta Questo mi sa che sarà un bel drop ragazzi Tutta da sub 41 bile di ammonite Un taser Una torcia elettrica 116 proiettili 2 di carne di montone E piattaforma elevatrice Io mi parcheggio proprio dentro Ti vedo Sella Per Arkelon Vaso di petrolio E una giacca di belliccia Anche l'on Sable No Alcune volte Anche il blu No Fra è un viola in teoria Questo dovrebbe essere buono Io si Ma a volte fanno cagare Fa caldo assai Sto cominciando a perdere i video A quale vai al primo O al secondo Volevo andare al blu Da quel lato E poi torna a casa No 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 Dai Mi riesco più a scendere No raga torna a casa Non ho capito Ma perché sto volo E mi ci passi in mezzo Perché Fra stiamo raggando Non mi fa aprire il drop Come si prenderà un drago spinore Sella per i guanodonte Buona Mamma mia Prendi il volo Testa di Ok Maschera mimetica Sele per megaterio Ho trovato due sele per megaterio Un fucile a cana lunga Ossidiana Polvere da sparo Io ho trovato come morire mio Ho trovato la passeggiata Eh Si è fermato davanti Alla porta di casa mia Non posso manco uscire Boh Che cos'è? Artefatto dell'istruttore? Pistola? Ma no Quello là Dobbiamo mettere dietro Pistola ragazzi Davanti alle case Con la pistola? Dietro a casa di mano Ma avete capito con la pistola? Non è importante La pistola E' importante come la usi E' importante quello che ho aggiunto io a quel drop Che hai aggiunto a quel drop? Come? L'artefatto L'hai aggiunto tu? Eh lo li puoi potenziare Ti pare che trovi un artefatto così? Ma ti sembra un po' strano Ne trovi nei dungeon quelli Picciotti Un po' di roba L'abbiamo procurata Vediamo Nel prossimo episodio Vi faccio sapere come fida Con quel t-rex E tutto Siamo riusciti a prendere qualche argentà Vi sono andato alla prossima volta L'obiettivo è Tappeare E vediamo di organizzarci Per pushare le viverne Episodio Molto Pieno Di azione Questo qui Siamo morti miliardi di volte Ma alla fine Siamo tornati a casa Con tanti uccelli Per tutti Vi ringrazio per la visione Se non l'avete ancora fatto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Col vostro fangamer Si arca Scended